Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano. Migliora il tempo sull'Italia ma ancora con qualche nota di stabilità. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 17 aprile. Nubi sparse e schiarite al mattino su tutte le regioni, localmente compatte anche al nord-est, ma senza fenomeni. Locali piogge solo sulle zone interne della Calabria. Al pomeriggio in aumento in stabilità con temporali acquazioni possibili sulle Alpi orientali, appennino centro-settentrionale e su Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Nubi sparse e schiarite altrove. In serata e nottata fenomeni in rapido esaurimento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie al centro-nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Med italiano.